Un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso il nostro canale YouTube dei nostri studi via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura di oggi dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo del Corriere delle Alpi e del Gazzettino di Belluno. Ma come sempre, prima di iniziare, leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi, ovvero lunedì 9 marzo 2020. Quando ti piace un fiore, semplicemente lo cogli. Quando ami un fiore, lo annaffi tutti i giorni. Buddha. Con questa citazione incominciamo l'edizione di oggi di Edicola Bellun. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti nelle due prime pagine dei quotidiani bellunesi. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno. Questa è la notizia principale messa in risalto e ovviamente si tratta ancora del coronavirus. Zone rossa accessibile ai lavoratori bellunesi. L'ultimo decreto discusso ieri in prefettura stop solo i turisti deroga a chi ha le seconde case. L'approfondimento lo troveremo a pagina 2 a firma di Bonetti. E la foto di copertina è sempre dedicata al coronavirus. Il titolo è Il reportage, l'emergenza quotidiana raccontata dalla gente. Così il virus ha cambiato la nostra vita, le contromisure e il bar Fornaci di Feltra ha delimitato così la zona rossa prevista per i locali pubblici. È una delle conseguenze dell'emergenza coronavirus per i bellunesi che i bellunesi stanno vivendo in questi giorni, dagli studenti ai professionisti. La testimonianza è un altro richiamo di spalla che riguarda sempre il coronavirus. Un medico pontalpino in prima linea a Euganeo e ancora i volontari, la Croce Rossa italiana Feltrina, tra aeroporto e supporto ai cittadini. Altro argomento affrontato in questa prima pagina del Gazzettino di Belluno. Nessuna offerta, il caffè tiziano non può riaprire. Notizia che riguarda il comune di Pieve di Cadore. Arsie, giornata generosa tra le tre le rive del Corlo e ancora Santo Stefano. Servizi informatici, Sappada resta all'Unione Montana. Questa per quanto riguarda la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso Veneto, Caos, Zaia, togliete le nostre province. Confini bellunesi controllati dalla Polizia Stradale a Quero e a Fadalto, ma i lavoratori possono spostarsi dal Trevigiano. Notizia quindi uguale quella riportata anche dal Corriere delle Alpi, come il Gazzettino. La foto di copertina invece è diversa. Dolomiti su Peschi verso la chiusura anticipata degli impianti. Oggi si decide la data della chiusura anticipata degli impianti di risalite delle piste che fanno parte del Dolomiti su Peschi. E la grande fuga dalla montagna, iniziata ieri dopo un fine settimana con piste affollate e neve in abbondanza. L'emergenza sanitaria. 30 bellunesi positivi, quasi 140 i tamponi fatti. 30 bellunesi sono rimasti positivi al coronavirus, 16 in più di ieri. Aumenta anche il numero dei tamponi eseguiti nell'usla Dolomiti nella giornata di ieri, ben 139. Questa è la situazione sanitaria nel bellunese. Nessuno dei sei ricoverati si trova in rianimazione, ma tutti sono in malattie infettive. Arrivano i lasciapassari per il personale dipendente che vive fuori provincia. E si risca la sospensione e controlli nei bar sulle distanze, inasprite le sanzioni. Caffè a distanza si riscano sanzioni dure perché viola le disposizioni e le raccomandazioni del sindaco di Belluno. Speciale di otto pagine in questa edizione del Corriere delle Alpi. Vita ai tempi del coronavirus. Cosa è cambiato con nuove regole? Altri richiami della prima pagina del Corriere delle Alpi. L'hotel Astor chiuso per i lavori nel portico una gelateria. Tutto questo nel centro di Belluno. E ancora da Belluno il Comune vuole una partita con le pantere dell'Imoco Volley. Questi sono i titoli presenti nella prima pagina del Corriere delle Alpi. Incominciamo proprio con il Corriere delle Alpi per poi passare al Gazzettino. L'allarme globale, il giro di vite. Saranno decisivi i prossimi otto giorni. Rischio il 60% della popolazione. Picco di contagili. Epidemiologi. Il virus non è uno scherzo. Il ministro ora pugno di ferro ipotesi zona rossa a Roma. E per chi si sta guardando in diretta da Facebook o YouTube come si vede l'andamento nazionale. Da febbraio ai primi di marzo vi è proprio una costante crescita. Si è passati da sette deceduti registrati il 24 febbraio a 366 registrati l'8 di febbraio. Per quanto riguarda invece i dimessi si è passati da 1 per quanto riguarda il 24 febbraio a 622 datato 8 marzo. Per quanto riguarda invece gli attualmente positivi erano 221 il 24 febbraio. Siamo passati a 6387 in data 8 marzo. Il governo pronto a un'altra stretta state a casa chiudiamo l'Italia militari in strada e trasporti ridotti. Se i cittadini violeranno le indicazioni per 15 giorni la socialità deve avvicinarsi allo zero. E' sempre perché ci sta guardando da Facebook o YouTube uno scatto del nord Italia. In questo caso le zone rosse sono tutta la regione Lombardia. Abbiamo anche la Valle d'Aosta. Abbiamo Vercelli, Asti, Novara, Alessandria, Piacenza, Parma. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre Reggio Emilia, Modena, Rimini, Pesaro, Urbino. Passiamo invece al Veneto con Treviso, Venezia e Padova. Queste sono le tre province in zona rossa. I provvedimenti, le scuole sono chiuse, musei e teatri chiusi, palestre e piscine chiuse, bar e ristoranti aperti ma con l'obbligo di un metro di distanza tra i clienti, attività commerciali aperte ma sanzioni se non si rispetta la distanza di misura, riunioni di lavoro, rinviate le riunioni e telelavoro dove è possibile. Questi i provvedimenti che coinvolgono circa 16 milioni di cittadini italiani. Il decreto del governo prevede restrizioni in tutta la Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte fino al 3 aprile. E questa situazione riguarda ovviamente, l'avete sentito anche il Veneto, lo scontro politico. Zaia critica il pugno di Ferro di Conte a abolire le tre zone rosse per il Veneto. Il governatore impegnato tutta la notte nella trattativa con il governo per evitare l'isolamento di Padova, Venezia e Treviso. Abbiamo avuto il decreto quando tutti già ce l'avevano. Non è l'esa maestà, cosa dico alle 600 mila imprese della nostra regione. Qui si deve lavorare. Questi commenti del presidente della regione Veneto, Zaia. Sempre per conto di riguardo allo scontro politico variati, nessun divieto per chi lavora, la salute va difesa. Zaia sia prudente. Il sottosegretario all'interno delle province di Padova, Venezia e Treviso non sono state messe in quarantena. Passiamo alle notizie che riguardano il bellunese. Confini controllati, ma i lavoratori potranno spostarsi dalla zona rossa. Ieri la postrada ha presidiato la zona di Quero e il Fadalto. Appello del presidente della provincia Roberto Padrin. Vertice in prefettura per analizzare il decreto. Si attende una circolare che chiarisca i controlli. E le misure adottate dalle attività. Clienti in coda all'aperto per comprare il pane. Supermercati attrezzati. Emisfero e Famila hanno messo strisce sul pavimento per tenere i clienti distanti dai banchi. Un bar ha chiuso per ferie. Impossibile tenervi a un metro. Così era scritto sul cartello di questo locale. Ma sempre per quanto riguarda il commercio in provincia di Belluno, caffè a distanza, sanzioni dure per chi viola le disposizioni, Massaro si rischia la sospensione dell'attività. Oltre alla denuncia penale, effettuati 52 controlli nei bar, tutti in regola, spesa a domicilio agli anziani. Le precauzioni, gli appelli dei sindaci, stare calmi ma rispettare tutte le prescrizioni. Questo è l'appello lanciato dal primo cittadino del comune di Belluno. E sempre per quanto riguarda il confcommercio, la protesta del mondo del commercio, ci hanno fatto sottovalutare i rischi. Il confcommercio, le rese dei giorni scorsi, i messaggi che ci arrivavano dalle istituzioni non erano molto chiari. E sempre per quanto riguarda il bellunese, è iniziata la grande fuga dalla montagna verso la chiusura anticipata degli impianti. Dolomiti su Peschi sta valutando il da farsi oggi la decisione e forse già mercoledì o giovedì lo stop nel comprensorio. Ancora a Cortina, ecco qua una fotografia di Cortina, ma questo è il titolo, chiude l'hotel della poste. Sono molto amareggiato. Il titolare Gerardo Manaigo interrompiamo una stagione quasi magica. Molti alberghi invece sospenderanno l'attività a partire da domenica prossima. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi. Cassa integrazione in quarantena, aziende, dati preoccupanti nel mondo del lavoro sia a livello industriale che artigiano. Sindacati, assistenza ai lavoratori in attesa delle norme esplicative, in Cina l'impasse si sta superando. E quindi questa notizia che convolge anche tutte le imprese del territorio bellunese. A proposito di salute, aumenta il numero dei tamponi eseguiti, 30 ai bellunesi risultati positivi ai test, 121 prove hanno dato un esito negativo, salgono da 4 a 6 i ricoverati all'ospedale San Martino. Ed ecco questa la situazione nel territorio dell'USL numero 1, aggiornamento dell'8 marzo 2020 alle ore 16. La fonte è l'USL numero 1 Dolomiti. Vediamo subito, totale ad oggi, ovvero da all'8 marzo 2020, sono 134 i residenti dell'USL Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva. In 24 ore vi è stato un aumento di 40 casi. Ricordati negli ospedali per sistemologia sospetta per Covid-19 sono 6 all'aggiornamento dell'8 marzo più 2 in 24 ore. E ancora numero totale dei tamponi eseguiti per ricerche del coronavirus in attesa di esito 139, ovvero più 139 in 24 ore, più 121 con esito negativo nelle 24 ore, con esito positivo non ancora confermato dagli SS, più 16 confermato dagli SS, 0. E' un medico beronese in trincea a Voh. Questa non è una normale influenza. Renato Salvador, docente dell'Università di Padova, è stato nel paese in quarantena per intervistare i contagiati. Questa è una sua riflessione. Non sappiamo ancora come si comporta il coronavirus e occorre studiarlo. L'emergenza globale, la zona rossa, brindisi al varco e a bracci in deroga. Voh ha festeggiato la sua liberazione. I rimattina sono stati tolti i blocchi saluti calorosi ai militari e poi la fuga sui colli. I locali hanno rimesso i plateatici. Questo è un aggiornamento per quanto riguarda il Comune Veneto che era stato isolato appunto per il coronavirus. All'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi vi è un'interessante guida sull'emergenza e le regole da applicare. Ovviamente per questioni di tempo non abbiamo modo di leggerlo. Andiamo avanti invece con la lettura del Corriere delle Alpi fino ad arrivare alle notizie che riguardano prettamente il territorio beronese e non solo il coronavirus. Eccoci arrivati a Belluno. L'Astro chiude un mese e rinnova i locali. Nel Portico una gelateria artigianale 900 avrà un laboratorio a vista e gelati nei pozzetti per permettere ai clienti di assaporare un prodotto di qualità. Saranno spostati i bagni che si trovano dietro la hall dell'hotel. L'accesso sarà dal bar. La storia del complesso è inaugurata nel 2014. Di recente è stata costruita anche una spa. E per lo sport amichevole stage con le pantere dell'Imoco volle il comune al lavoro. Collaborazione attiva con la società di Palavolo della città incontrata a gennaio dall'assessore allo sport Marco Bogo. Sempre dal capoluogo Capri Alpi. Due milioni di euro per le aziende. Sono i fondi investiti nel 2019. Il presidente Peter. Le abbiamo cercato di integrare la parte pubblica con quella privata. Notizie da Feltre. Lavoriamo al palinsesto delle attività estive in città. Avisalli l'assessore annuncia a breve ci sarà la convocazione della cabina di regia sul piatto un investimento di 30.000 euro per gli eventi e la promozione. Dall'anno di piave sistemazione in vista per la provinciale 10 tra Fener e Il Tomba. Per la rubrica gusto mi sono messo a dieta e mi è venuta un'idea. Così è nata la confraternita del grasso. Andrea Riboni della locanda Solagna in essere novità della tradizione e rivaluta un elemento oggi bistrattato in cucina. Lo sport del lunedì come sempre è ricco di notizie anche se la situazione del coronavirus ha frenato e ha chiuso diverse attività sportive. Comunque cominciamo con il Beatron, Coppa del Mondo. Vitozzi sfortunata, si sgancia anche lo sci soltanto quinta. Una vierere imprecisa, l'altoatesina, neve difficile in alcune parti della pista. Sembrava di fare sci d'acqua. Prossime tappe con Tiatli e Oslo. Ancora dallo sci alpino, il personaggio Paris lo stoppa alle finali di Coppa. Decisione giusta, tutela la salute e il fuoriclasse al totesino. Da appuntamento ai mondiali del 2021, tra me e Cortina c'è un conto in sospeso. Pallavolo, la spes valuta lo stop dell'Under 14 in giù. Bianchini, situazione surreale. Seguiamo le norme. Cavaletti del Tricchiana, la salute viene prima di tutto. Per lo snowboard, Elisa Caffont di bronzo. Nello slalom, parallelo di Coppa Europa. Quinta, Giulia Gaspari. Ancora dallo sci nordico, il personaggio vola la giovane Italia di Piller Kotler. Grazie a un talento, Comarella in crescita. Il Sappadino ha guidato la nazionale che ai mondiali Under 23 in Germania ha vinto un argento e tre bronzi. Pallavolo, sempre un altro personaggio. Dieci anni fa la Sisley ha la spessa arena. Piazza Belluno meriterebbe la parla l'ex allenatore di Quelle Sestetto. Con la vostra città ho un legame speciale o ancora tante importanti amicizie. Sport Calcio a 5, Sindoca, playoff e Coppa in emergenza finita. Il presidente Granata guarda il futuro, mancano sei giornate. La stagione regolare può anche terminare qui. Palla a mano, dalla Scudetto a Trieste fino al Belluno. Buffardici, il nostro lo sport più bello. Parla all'allenatore della Firex di Serie B. C'è un gruppo di giovanissimi che potrebbe fare bene per i prossimi dieci anni. Ok, Cortina, Alps League, Cortina Afro. La situazione è molto complicata. Dopo un master round da protagonisti, gli scogliattoli erano pronti ad affrontare il Salzburg B. Datal, di ripresa probabile il 17 marzo. Rugby, Andrea Sartoro, un talento nato nel Feltre. Che bella la promozione in B nel 2016. Il capitano Granata racconta la sua carriera, che ha toccato anche la massima serie con Cus Verona e Val Sugana. Serie Albig Match, una notizia di carattere nazionale. L'8 marzo è festa della signora. Il regalo è un gioiello di Dybala. Inter spenta e incapace di reagire dopo la rete del vantaggio di Ramsey. In dieci minuti la Juventus chiude il conto. 2-0 tra Juventus e Inter. Passiamo adesso alla lettura del gazzettino di Belluno. Pagina 2 si apre con l'emergenza coronavirus. Merce e lavoratori possono superare le zone rosse. Fermo il turismo. Ieri stavolo in prefettura per chiarimenti sulle regole del DPCM. Deroga a veneziani, trevigiani e padovane con le seconde case. Non ci saranno posti di blocco ma solo controlli dinamici. Basterà una certificazione o tessera o badge. E sono doppiati i contagi. Il feltrino non con più positivi. Salgono a 30 i beronesi positivi con un aumento di 16 casi. In sole 24 ore, 134 in isolamento. Nessun ricovero in rianimazione dove comunque sono stati aumentati i posti letto. Le piste sono aperte col pianone. Ora scattano i controlli. Sciatori in fila cortina. San Pellegrino civetta. L'incognita nei prossimi weekend. Il sindaco Ghedina richiama gli impianti al rispetto delle regole e annuncia molte. E sempre per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. La laurea è a un passo. Il corso da remoto. Facciamo squadra. Elisabetta Carraro sta per concludere il percorso magistrale in web marketing. L'ultimo laboratorio in programma a Milano ma viene trasferito in rete. Avevo molta paura ma bisogna saper selezionare anche le fonti come sul web. Servono fiducia e responsabilità. Mese di vantaggio sprecato. Siamo costretti a rincorrere ma proteggiamo gli anziani. Per Gianluca Rossi, medico di base, è stato fatale non prepararsi quando dalla Cina arrivavano le prime avvisagli. E ancora mamma, moglie lavoratrice. La mia inedita quotidianità. Gladys Serena vive in città. È rappresentante dei genitori nella scuola dei figli. Consigliere a Santomaso, impiegata in uno studio e bada a un padre anziano. Questa è sempre la storia di una bellunese che ovviamente si organizza anche a seconda delle conseguenze del coronavirus. E anche il mondo del volontariato è in azione. La Croce Rossa è in prima fila negli aeroporti. I volontari della sezione a Venezia è treviso per rilevare la temperatura ai viaggiatori. Biblioteca è riaperta e con limitazioni. Ammessi solo i tempi per prestiti e limitazioni. Accesso contingentato. Tutto questo per quanto riguarda la biblioteca di Querovas. Arsie, prove di primavera sulle sponde del Corlo. Prima domenica con ciclisti e gitanti nonostante l'emergenza. Parcheggi quasi pieni. Qualcuno si è dedicato anche al barbecue. Fiduciosi gli operatori turistici. Notizie anche da Sedico. Sedico Servizi, Conti Lumaca, Deon. Sono emerse criticità. Il sindaco risponde all'opposizione. Verifica doverosa ai bilanci dell'ente. Ritardo legato all'urgenza di nuove risorse per mantenere qualità dei servizi. Pieve di Cadore, gestione del Tiziano, buio pesto. Il consiglio alla proposta di Gregori di affidare il caffè direttamente alla Magnifica. Ma il presidente lo gela. Il locale non resterà vuoto. Verrà aperto per manifestazioni. L'obiettivo resta comunque l'affidamento commerciale a terzi. Non è ancora chiusa una delle pagine più oscure della storia del locale. al quale i cadorini sono molto legati. Lettere, opinioni, dubbi e perplessità. L'emergenza virus vista dai nostri lettori. Un approfondimento quindi del gazzettino. Le misure di contenimento di contagio. Il mistero del morbo. Hanno spinto diversi cittadini a rendere pubblico il loro parere. E qui appunto sono state pubblicate una serie di lettere dei lettori del gazzettino di Belluno. Siamo arrivati allo sport. Anche in questo caso le notizie sono ridotte per la situazione del coronavirus. Comunque leggiamo quelle presenti. Il mister bloccato a casa. Fermate tutto. Zanin risiede in provincia di Venezia. E il presidente del Belluno Alberto Lazzari dice basta al campionato alle titubanze. Il tecnico sceglie la cautela. Storo le disposizioni. Io sono disposto anche a salire e non muovermi più. La spesa non molla. Chi vuole può allenarsi. Questo per quanto riguarda sempre la pallavolo. Su base volontaria l'attività prosegue dagli under 16 in su. La presidente Fabiana Bianchini. La pallavolo può dare un segnale ai nostri ragazzi seguendo i protocolli. San Giorgio in caso di stop definitivo. Ipotesi promozione. Il paradosso del club presieduto da Sergio Deciana. Il comando del girone B di eccellenza. Prima del coronavirus i regolamenti non ci danno certezze. Ancora sport. Porta dalla palma una famiglia sul fronte. Davide il medico che corre forte dopo le Paralimpiade di Londra 2019. Gli studi, la laurea e ora il lavoro in ospedale. Il sistema sanitario funziona. E papà Claudio studia i calendari. L'ex allenatore della Feltrese impegnato a ricalibrare il programma dei campionati studenteschi in provincia. Una volé sopra il coronavirus. Nonostante le restrizioni e gli atleti bloccati nelle zone rosse. Il circolo di Fisterre porta a termine un bel torneo rodeo. Rodeo parliamo di tennis. Sabato le over 45 hanno giocato e vinto al Lido di Venezia prima che scattassero i blocchi imposti dal nuovo decreto. Con questa notizia a termine l'edizione di oggi di Edicola Belun. Come sempre prima di salutarvi leggiamo assieme le previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani. Alternanza di nuvole e rasserenamenti sulla pianura fino all'alba. Nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali altrove in dissolvimento al mattino. E localmente nuova formazione di sera. Precipitazioni assenti, venti sulle pianure da ovest nelle valli deboli moderati con direzione variabile in alta montagna da moderati tesi a tesi forti col passare delle ore dal nord-est. Mare calmo, temperatura andamento irregolare di notte in aumento anche sensibile di giorno. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Come sempre vi ricordo che donando il 5x1000 all'Associazione Belunesi nel Mondo sostenete anche Radio ABM, la web radio appunto della nostra associazione. Questo è il codice fiscale. Quando andate a fare la denuncia dei redditi ricordatevi quindi dell'Associazione Belunesi nel Mondo il codice fiscale da riportare è il seguente 0021 3580 251. Dovete mettere questo codice fiscale e la vostra firma nella sezione Associazioni di promozione sociale. Ricordatevi quindi dell'Associazione Belunesi nel Mondo in occasione del vostro 5x1000 e grazie per il vostro sostegno. È davvero tutto, noi ci risentiremo, ci vedremo domani puntuali come sempre. Edicola Belun invece andrà in onda via streaming in replica questa sera alle 20 domani mattina a Luna, ora locale italiana. A tutti voi un buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, voce delle Dolomiti.